Poi abbiamo visto sul campo nei primi 15 minuti almeno tre occasioni questo ragazzo e poi si fa espellere, ripeto per me, troppo il rosso. Poi la manata c'è, adesso c'è un problema però perché il rosso diretto significa due giornate di squalifica e fra due giornate sapete chi c'è, c'è la Juventus. Capiremo nelle prossime ore quale sarà l'entità della squalifica. Il Napoli secondo me deve fare ricorso anche perché, ripeto, al di là di quello che è il gesto del ragazzo che è sicuramente di uno strano impeto però, insomma, rosso diretto mi sembra un po' forzato. Poi al primo tempo il Napoli un po' si perde, questa espulsione non lo aiuta. Nella ripresa cambia il volto della partita soprattutto per le giocate di Mario Rui e di Di Lorenzo. I due giocatori esterni si guadagnano due calci di rigore, ragazzi sì, è vero, due calci di rigore per il Napoli cosa che difficilmente, siamo tornati indietro nel tempo, non ci ricordavamo, abbiamo pensato, pensate ai calci di rigore a Salaceta. Il segno sbaglia il primo, anche questo incredibile ma vero, il secondo però lo mette a segno, là il Napoli si sblocca, arriva il raddoppio con una bellissima giocata di Elmash su grande passaggio di Di Lorenzo Insigne. Entra anche Lozano, entra Gaetano nel finale Petagna con standing ovation proprio per il capitano e il Napoli mette tre punti in classifica. Massimiliano Zumi, ciao Max, come l'hai vista? Le frasi sono quelle là fatte, l'importante era vincere, buona la prima, tutte così, ma intanto quello che serviva erano questi tre punti. Buonasera Francesco, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sì, effettivamente la cosa importante era vincere e partire col piede giusto in questo campionato. Il Napoli è stato dominante il primo quarto d'ora, i primi venti minuti, fino all'espulsione, incredibile, consentimi Francesco di dire, di Osimen, ma è incredibile da entrambe le parti, incredibile per la decisione di Aureliano che non ho avuto alcun dubbio, ma è incredibile anche, voglio dire, per l'ingenuità, per l'irruenza di questo ragazzo. Questo ragazzo deve lavorare molto, moltissimo, sull'aspetto caratteriale, sull'aspetto nervoso, perché purtroppo gioca in Serie A, o per fortuna gioca in Serie A. Qui non stiamo nella Ligan, qui non è più il ragazzino di 17 anni che viene fuori per le sue caratteristiche, anche extracampo, che viene fuori con la rabbia. Qua la situazione è diversa, in Serie A ci vuole intelligenza, ci vuole esperienza, ci vuole calma, ci vuole freddezza, le occasioni che ha avuto il primo tempo, soprattutto il tiro con uno stop bellissimo, quello del primo tempo, però ci vuole calma, ci vuole più sangue freddo, ci vuole più coralità nei movimenti di questo ragazzo. È un ragazzo che sicuramente va aspettato, però va aspettato Francesco da un punto di vista proprio emotivo e caratteriale. Per quanto riguarda la partita, io ho trovato Di Lorenzo, il solito migliore in campo, un ragazzo di una forza, di una capacità, di una voglia incredibile. La catena di destra ha funzionato molto bene, perché Politano il suo lo ha fatto e lo ha fatto bene. In mezzo al campo, Francesco, come dicevamo anche a telecamere spente, secondo me il Napoli deve lavorare e lavorare tanto. Non ci dimentichiamo l'infortunio a Zelischi, l'infortunio a Zelischi è un'altra tegola. Sì, non ne ho parlato, ma hai fatto bene a sottolinearlo. Dobbiamo capire qual è l'entità dell'infortunio, pare un problema muscolare, speriamo. Speriamo che sia un problema muscolare. L'infortunio a Zelischi sicuramente non suona bene per il Napoli, non suona bene per Spalletti. Quello che mi va di sottolineare stasera, credo che si sia intravisto, questa squadra è capace però di compattarsi e soffrire. Cosa che negli ultimi anni era un po' venuta a mancare. Perché quando c'era qualche episodio a sfavore, che sia un'espulsione, che sia un gol dubbio, che sia magari un gol non realizzato, questa squadra si perdeva. Invece stasera ho notato proprio questo, ho notato uno spirito forte di coesione. Ho notato una squadra che comunque è riuscita a chiudere tutti i varchi e tutti gli spazi. Sicuramente dall'altro lato non c'era questo avversario irresistibile, non c'era questa corazzata. Però c'era una squadra che comunque... Venezia veramente ha tirato mezza volta in porta, diciamo. Ha tirato mezza volta, il suo lo ha fatto perché poi fondamentalmente il Venezia ha più di un pareggio, non poteva sperare. Non poteva sperare, bravo. E infatti se l'è giocata bene, perché poi abbiamo visto che per buoni 15-20 minuti del secondo tempo non si è giocato. Venezia ha fatto una serie di falle novi, credo che abbia chiuso con 8-9 ammoniti. Non lo so, sono 5-6, ma sicuramente sono quelli. Però ripeto, ecco, quello che mi è piaciuto stasera è stato proprio lo spirito di sacrificio che ho visto in questa squadra. Ho visto fare ad Insigne un ruolo che non è propriamente il suo, però lo ha fatto a testa bassa senza andare in escandescenza. ho visto una difesa molto, ma molto attenta e guidata da un Coulibaly che, credo che questa sia una notizia, sia diventato lui il joystick di Manolas. Sì, sì. Cioè, mentre Albiol aveva il joystick per Coulibaly, secondo me Coulibaly dopo tre anni ha capito che deve essere lui... Deve essere lui a decidere certi movimenti. Deve essere lui a dettare i tempi difensivi perché purtroppo Manolas ancora stasera qualche distrazione e qualche sbalatura l'ha palesata. Chiudo dicendo che tutto sommato a inizio campionato i tre punti sono corroboranti, i tre punti servono anche per dare un segnale di presenza a questo campionato e soprattutto servono in vista del fatto che comunque nella prima giornata la Juve ha pareggiato. Sì, sì, anche questo è vero. Allora, tantissimi amici collegati, ma già vedo Gennaro Delena e credo anche Adriano pronti dal Maradona. Eccoli qua, eccoli qua i nostri eroi. Vedo anche sfilare i tifosi dietro di voi. Se volete potete anche sentire qualcuno, ma datemi subito il vostro commento. Che partita avete visto? Che partita è stata? Ecco, ecco. Allora, ciao Francesco, non ti sentivo a scatti, però ho capito la domanda. Insomma, la giro anche da Adriano. Francesco ci chiedeva che Napoli abbiamo visto, che partita è stata. Ti rispondo io. Ho messo, guarda, partita abbastanza anomala. Però in un ideale lavagnetta ho segnato dei punti positivi e dei punti negativi. Sì. Prestazione di Lorenzo Insini, o meglio. E il coraggio con il quale ha preso palla, raccolti e accalciato il secondo rigore, dimostrando a tutti che c'è e ha i nervi saldi. Lo dicevamo all'inizio gara, si è rivelato l'uomo decisivo. Bene, bene gli esterni, sia Di Lorenzo sia Mario Rui, che ci diamo gli esterni perché erano diventati un po' un mantra per quanto riguarda la questione del terzino civile. Invece oggi bene Mario Rui, bene Di Lorenzo, entrambi non soltanto per i rigori conquistati ma per la bella prova complessiva che hanno espresso, è paradossale che Napoli abbia giocato molto sugli esterni e meno per vie centrali. Bene il rigore tattico che Napoli non ha smarrito, nonostante l'imperiorità numerica e il nervosismo che poteva seguirne. Seguirne si è vista, secondo me, in questo caso la mano di Spalletti, molto probabilmente nella passata stagione avrebbe prevalso il nervosismo. Chiaramente bene Helmash che si sta confermando sotto la guida di Spalletti, un'arma importante per il Napoli che speriamo possa proseguire così. Male, male, chiaramente Osimen per quegli atteggiamenti che gli avevamo imputato nella passata stagione che purtroppo ha confermato in occasione dell'espulsione, anche se probabilmente un pizzico severa. Abbiamo rivisto le immagini, più di un pizzico severa, però il ragazzo non deve lasciarsi andare a certi atteggiamenti perché in Serie A molto spesso si possono pagare cari. L'altro punto negativo, direi, almeno per quanto mi riguarda, il centrocampo sia nelle individualità, Fabian ancora fuori condizione, probabilmente sta cercando ancora anche la migliore posizione in campo, e lo Botka un tantino timido, non male, ma un tantino timido, soltanto all'85esimo, commentavamo insieme ad Adriano, l'unica sortita verso la porta avversaria, invece ha preferito nella maggior parte delle volte giocare in orizzontale o appoggiare l'azione dietro. Per il resto, vittoria sicuramente importante, hanno vinto tutte le big, tranne la Juventus. Dimmi Massimo. Io l'ho definito scolastico, lo Botka. Sì, esatto, esatto, è la definizione adeguata, secondo me è un lo Botka scolastico, che però insomma sta provando a prendersi il centrocampo. Vedremo se sono limiti di tipo caratteriale o semplicemente sono probabilmente limiti, insomma, ma tecnici che non lo porteranno a diventare il fulcro del centrocampo di Napoli. Vedremo, siamo all'inizio, però scolastico come sembra la definizione è poi adeguata. Adriano. Dico bene, bene la prima, perché bisognava partire bene con la prima sicuramente, non era facile e soprattutto si è complicata, come si era messa abbiamo un po' sudato freddo, perché sembrava tutto andasse male, verso il fulcro, mentre invece fortunatamente il Napoli è riuscito a rimanere in gara, nonostante l'inferiorità numerica, ha sbagliato un rigore, quindi quella cosa poteva realmente mandare veramente giù la squadra, insomma perdere tutte le proprie certezze, mentre invece fortunatamente un altro rigore Lorenzo ha avuto il coraggio di andare sul dischetto e metterla dentro, per cui fortunatamente è andata come doveva andare. Elmas, grande partita, conferma le grandi aspettative che ha il mister su questo ragazzo, ripeto, bene così perché dovevamo partire con il piede giusto, così è stato, testa alla prossima. Ragazzi, allora volevo capire anche un po' gli umori dei tifosi, che ne pensate? Cioè i tifosi sono, cioè il Maradona ha fatto quest'ovazione all'insigne, noi abbiamo visto un po' le immagini da Zon, che insomma è andata benino, non bene, benino in certi momenti, ci ha fatto vedere questa lunga carrellata con insigne, che fa dalla mano a tutti, dal 5 a tutti, che esce felice, abbraccia Santoro, abbraccia tutti, insomma mi è sembrato di vedere un Maradona che era contento anche dopo il rigore sbagliato, no? Sì, la partecipazione da parte del pubblico è stata veramente calorosa, non eravamo più abituati alla presenza dei tifosi allo Stato, e devo dirti che stasera, secondo me, la presenza è stata superiore ai 25 mila paventati e preventivati, la curva avv era strapiena. Detto questo, il supporto è stato costante, è stato molto molto caloroso, hai fatto bene a sottolineare l'appoggio a Lorenzo Insigne, i cori per Lorenzo Insigne, ma ci sono stati i cori alla fine anche per Cali Duculibali, che è andato sotto la curva, per Matteo Politano, insomma, il clima era di festa, non si percepiva quell'area di pessimismo, insomma, che invece abbiamo respirato intorno alla squadra relativamente, i ritiri che abbiamo descritto insieme nelle scorse settimane, ne è invece sembrato che la città fosse veramente molto vicina alla squadra, e ti sottolineo invece un coro partito dalla curva B, dell'Aurentis figlio di tutto lo stadio, compresa la tribuna dove il Presidente era seduto, ha applaudito, insomma, a questo coro, quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, compattezza. E chiedevano dallo studio, Adriano, come hai visto, insomma, i tifosi, Francesco sottolineava l'applauso Cala Rosa d'Insigne, che impressione hai avuto? Assolutamente, una grande atmosfera, ve l'ho descritta anche prima dall'esterno, le sensazioni erano positive. Fortunatamente anche lo stadio è stato vicino alla squadra, perché come dicevo prima si era messa veramente male, sembrava una partita stregata, mentre invece hanno sostenuto dal primo all'ultimo minuto, hanno sostenuto lo stesso Lorenzo, direi sono stati bravi a non, come dire, a mantenere il controllo, insomma, potevano anche, magari, poteva sfuggire qualche fischio, insomma, a un rigore sbagliato di Lorenzo, in questo momento così delicato, mentre invece sono stati perfetti, tipo si do di la verità, è veramente una grande prova di maturità da parte di questo stadio, che tra l'altro torna finalmente a riabbracciare la propria squadra, quindi tutto bene, penso di sì, secondo me oltre 20.000 sicuramente, quindi tutto bene, ciò che finisce bene, ripeto, testa sul manubrio e pedalare, va bene così, insomma, io intanto vi devo anche salutare, ciao, grazie Adri, quindi vi abbraccio forte, ci vediamo in settimana, insomma, con i nostri telespettatori, ciao Francesco, ciao Adriano, ciao Massimiliano, ciao Massimiliano, ciao Adri, ciao Adri, grazie, grazie Adriano, allora, Jenny, in chiusura, intanto vediamo l'esultanza qua del Napoli, credo che abbia messo questo sulla copertina del Twitter, del sito, c'è ancora Jenny? Eccolo, eccolo, Gennaro, volevo capire da te, è uno Spalletti che tu hai visto, come dire, dalla tribuna stampa, non è facile, noi l'abbiamo visto sempre pronto a dare consigli, il nostro Pasquale Rosiello, lo sai, ha detto, che guarda sempre la partita sotto tutte queste sfumature, ha detto, Gattuso urlava Spalletti da consigli, mi dai una conferma per quello che hai potuto vedere, e poi tutti ci stanno scrivendo che questa espulsione potrebbe essere un problema, perché se è rosso diretto due giornate, la Juve, c'è la Juve fra due giornate, non te lo dimenticare? Sì, no, no, non lo dimentico di certi, io credo però che se la condotta di Osimeno non venisse giudicata particolarmente violenta nell'effetto arbitrale, e crediamo che non si tratti di condotta violenta in senso stretto, almeno dal replay non è parso che il nigeriano colpisse con un pugno, con una comitata da vestare, una sorta di manata, quasi una sbracciata, quindi il giudice sportivo potrebbe essere Clemente, insomma, ma è infliggere una sola giornata, io credo che se la caperà con una sola giornata, i rossi diretti non sono necessariamente forieri di due giornate di squalifica, dipende poi dalla natura dell'espulsione. Per quanto riguarda Spalletti, ti dicevo prima, ti sottolineavo prima, che probabilmente nella passata stagione il Napoli, la calma che ha dimostrato stasera, dopo essere rimasti in un'imperiorità numerica e dopo l'importunio di Zelinski, probabilmente nella passata stagione l'avrebbe persa, i nervi saldi a cui facevo riferimento prima, e secondo me sono da attribuire anche al grande lavoro che da questo punto di vista Luciano Spalletti sta facendo da diversi mesi, abbiamo avuto il piacere insomma di poterlo vedere all'opera nei due ritiri, uno in Trentino e l'altro in Abruzzo, da poco conclusi e credo che cominci nei frutti, cominci già a vedersi, proprio in queste situazioni abbastanza complesse, anche se devo dirti che il Venezia ci ha messo del suo, non cambiando mai atteggiamento né dopo la superiorità numerica né dopo l'infortunio di Zelinski, non ha mai provato a colpire il Napoli, che in quel momento era vulnerabile, ha preferito fare la sua partita neanche di rimessa, perché praticamente non ha neanche provato i contropiedi, non so che tipo di gara aveva impostato Zanetti, insomma difesa d'oltranza, ma alla fine hanno pagato a caro prezzo questo atteggiamento, ci fosse stata una squadra un po' più aggressiva, probabilmente il Napoli avrebbe avuto maggiori difficoltà, però detto questo Spalletti sì, uno Spalletti mai parco di suggerimenti, sempre molto vicino al vivo dell'azione, nel senso che ha comunicato spessissimo con Mario Rui, Mario Rui perché spesso si trovava in una posizione vicino a panchino e gli esterni, e spesso anche con i suoi umili più rappresentativi, Fabian, quando c'era la possibilità di un rinfrescata, quando i calciatori si avvicinavano alla panchina per raccogliere bottigliette d'acqua, di bevande di setanti, lui non perdeva occasione per dare suggerimenti, anche quando è stato espulso di Main, ha mantenuto la calma, si è presentato sì al quarto uomo, però sempre con atteggiamenti mai sopra le riche, io credo che questo sia l'atteggiamento giusto da parte del tecnico Azzurra, che stia già in parte trasferendo ai calciatori in campo. Bene, allora Jenny, se non ci sono grosse novità o situazioni particolari, io ti ringrazio, ci vediamo con te nei prossimi giorni, nelle prossime ore, tanto non ci fermiamo mai, questa settimana sarà un po' light, con la diretta lunedì, mercoledì, venerdì, poi dalla settimana prossima saremo in onda con il Genoa, che giocheremo alle 18.30, quindi pre-partita alle 17.30, e poi si inizia tutta la settimana, lunedì, venerdì, tutti i giorni dalle 15.30 fino alle 18.30. Allora, grazie a Gennaro Delena, ciao Jenny. Grazie a voi, ciao Francesco, ciao Massimiliano, e buon proseguimento di trasmissione. Grazie, grazie. Allora, ricordiamo che non essendoci la MixZone, non possiamo darvi oltre per ora di questi bei collegamenti che facciamo dal Maradona, allora, tantissimi tifosi, prima di entrare nel vivo anche con le telefonate, io vi ringrazio perché siete tantissimi, chiedo anche a Marco Mennino in regia, se con una bella carrellata con le nostre L, salutiamo un po' i nostri sponsor, cui regaleremo questa settimana di programmazione, per il grande apporto che ci hanno dato durante i due ritiri di Di Maro e di Casteldisangro e li invitiamo a rimanere con noi, ci farebbe veramente piacere. Allora, vado a leggere subito, Nicolo dice rispetto per Victor, poi Michele dice il mister è un grande, Osimen deve stare più tranquillo, scrive Antonio Candurro, Emilio dice Osimen prenderà due giornate, che dite, io me lo auguro di no, Michele Durantini scrive sostituzioni azzeccate, dico di sì, però lei avrei fatto un minutino prima? Forse un po' prima, forse un po' prima, sì, magari un po' prima per far rifiatare anche Fabian, perché abbiamo visto gli ultimi 5-10 minuti, Fabian veramente era sulle gambe, ma è anche giusto, è la prima di campionato, hanno giocato per oltre un'ora in dieci, con 30 gradi, perché stasera è un caldo veramente di quelli esagerati, quindi forse, però voglio dire, siamo proprio al limite del capello, stiamo guardando veramente il capello, mi sembra che la condotta di Spalletti sia stata veramente perfetta, da un punto di vista sia tecnico, ma soprattutto motivazionale e comportamentale, per quanto riguarda gli uomini in campo, insomma, sono perfettamente d'accordo, quando prima dicevi, l'anno scorso molto probabilmente, questa partita, dopo l'espulsione, sarebbe diventata la classica partita nervosa, agitata, la fommara solita al centro campo, con le urla di Gattuso che arrivavano in tribuna, invece Spalletti con il suo aplomb, la sua esperienza, va anche detto, della sua classe, ha fatto sì che comunque la squadra si compattasse, e prendesse da questo episodio negativo, il lato giusto, il lato positivo, per reagire e per reagire bene. Allora, Giuseppe, scrive un mister che si è fatto anche a menire, perché era stato punito quel fallo, perché non era stato punito quel fallo, la dice lunga, facciamo lavorare bene il mister, ma siamo d'accordo. Allora, notizie di Zelischi, per ora non ce ne sono, anche perché non sono arrivate dichiarazioni, né per ora abbiamo avuto un comunicato del Napoli, se nel corso della partita arriveranno, saremo pronti a darvele. Allora, Raffaele Insigni deve andare via, il primo rigore l'ha sbagliato apposta. No, no, Raffaele, ti prego, Raffaele, non cominciamo con queste cose. Ragazzi, io penso che Insigni era veramente arrabbiato, dopo quel rigore. Espulsione scandalosa, l'abbiamo detto. Poi Grande Napoli da parte di Giovanni Ferraiulo, Donato dice bravo Lobottica, che voto dai a Lobottica? Dai, poi andiamo al telefono. Do un sei, Francesco, te l'ho detto, do un sei perché comunque è stato scolastico, perché comunque ha fatto il compitino, errori poco o nulla, non ne ha commessi di errori reclatanti, ma anche perché non ha rischiato mai. Quindi nell'attimo in cui tu ti appoggi sempre a tre metri, a quattro metri, o ti appoggi dietro, e fai girare il pallone, fondamentalmente è difficile fare errori. Una partita senza infami e senza lode, una partita da sei, perché il Napoli aveva vinto, se il Napoli avesse pareggiato o perso, era una partita da cinque. Questo è il ragionamento. Giuseppe ancora scrive, ho visto una squadra che ha giocato in tranquillità, Coulibaly che ha gestito bene la difesa, come dicevamo, non ho visto i soliti passaggini, i pochi tocchi, ma un gioco fluido. Antonio dice, questo Napoli mi è piaciuto, Rosario dice, due giornali squalifica per non aver fatto nulla, Rosà, speriamo di no, assolutamente. All'OM, allora, ma non c'è l'espulsione, scrive Cira, Sergio, un buon Napoli, considerando l'espulsione la prima di campionato, Lobotka è un giocatore di serie B, dice Adriano, no, non sono d'accordo neanche su questo, è un giocatore che fa il compitino, che può ancora migliorare, che in questo momento, senza demme, è un giocatore che ha risposto presente. Francesco, ma questo è un equivoco, da cui noi dobbiamo cercare di uscire. Allora, quando si parla di determinati calciatori del Napoli, Lobotka, Petagna, c'è da prendere in considerazione il fatto, che questi calciatori non sono venuti a Napoli, per essere titolari. Sono stati catapultati in una realtà che non vi appartiene. Allora, se da Lobotka si aspetta Toni Kroos, siamo tutti d'accordo che non è così. Se da Petagna ci si aspetta Lewandowski, siamo d'accordo. Però, sono quei calciatori che all'interno di una rosa, come terza scelta, come quarta scelta, vanno più che bene. Perché comunque sono dei mestieranti, sono dei giocatori che sanno stare al loro posto, non sono del tutto inguardabili. Soprattutto perché mi sembra che entrambi abbiano comunque riacquisito una condizione fisica accettabile rispetto allo scorso anno, soprattutto Lobotka. Quindi voglio dire, è normale, non ruba l'occhio, è normale, non ha la giocata, è normale. Però dobbiamo cercare di pensare che in questo momento il Napoli sta tamponando come Lobotka, cercando, se è possibile, qualcosa sul mercato, un last minute sul mercato, un prestito, un diritto di riscatto, una cosa del genere, magari di un livello superiore, di uno scalino superiore, da poter prendere, non dico in mano, le sorti del centrocampo partenopeo, però quantomeno di alzare un filo, l'asticella, verso l'alto e verso quel miglioramento a centrocampo che secondo me è fondamentale. Però ripeto, il Napoli quest'anno, almeno in questa prima uscita, ho notato due cose fondamentali da un punto di vista tattico. La prima, una ricerca della verticalizzazione molto ma molto più veloce. Il Napoli va in verticale molto più velocemente, il giro palla dietro viene fatto molto ma molto meno, per fortuna. E questo è fondamentale. Si parte molto meno dal basso e quando si parte dal basso è perché i giocatori quella giocata ce l'hanno di default. Ti fermo un attimo perché abbiamo telefonate ma abbiamo anche le prime dichiarazioni. Sono di Coulibaly che ha detto mi fa molto piacere avere la fascia di capitano, sono da sette anni qui, oggi andava ridata ad Insigni e ha segnato dopo aver sbagliato. Oggi ci ha dato una grande mano correndo come un matto. Sapevamo di poter difendere senza prendere gole e di poter far male in avanti. Spalletti arrivando qui non ha cambiato tutto. Ha conservato quanto di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Ci ha aperto gli occhi e ha portato la sua magia andando però nella continuità con Gattuso. Ci ha sistemato alcuni aspetti e questa sera ci ha aiutato. Insigni è molto importante e vogliamo tenerlo con noi sapendo che però quella contrattuale è una situazione delicata. Lui è concentrato e ha bisogno sempre dell'affetto del pubblico. Allora molti tifosi continuate a scriverci sulla nostra diretta stanno dicendo che questo Venezia era scandaloso. Io mi permetto di dire che era una squadra che è venuta qua a prendersi il pareggio. Poi nulla di particolare. È chiaro che non è uno squadrone. Allora un'altra dichiarazione poi andiamo al telefono vi prego di essere brevi di fare veramente botte e risposta lo sapete nel post partita dobbiamo essere bravi. Allora ha parlato sia Zanetti a Dazon che Zanetti in conferenza la differenza tra noi e il Napoli ampia non si è vista la superiorità numerica sono arrabbiato troppa differenza tra noi e loro gli episodi non ci sono stati favorevoli in superiorità dovevamo dare di più. Queste sono un po' di notizie Caldara, Rosso Adosimen ero di spalle l'arbitro non ha avuto esitazioni deve aver visto chiaramente esultanza rabbiosa secondo alcuni colleghi dice che Insigne avrebbe detto ci vogliono due bip così per battere un altro rigore cioè ha detto ci vogliono gli attributi ci vogliono gli attributi va bene comunque dai per dirti questa cosa allora andiamo al telefono pronto? Buonasera direttore buonasera Mac Umberto da Piazza Nazionale vai Umbertone vai buonasera a voi vai Umberto velocissimo buona la prima l'importante era vincere la cosa che mi è piaciuto di più è stato lo spirito di squadra che è vero è vero dopo 11 minuti senza il centravanti l'unico centravanti di volo levando Pedagna naturalmente ma con caratteristiche che ha caratteristiche differenti comunque ha cercato la vittoria indubbiamente il Venezia non era una gran cosa però comunque queste sono partite molto molto insidiose come dicevate voi nel pre partita queste partite contro le squadre di seconda fascia tra virgolette bisogna vincere tutte per sperare di arrivare in Champions punto nient'altro mi è piaciuto sì mi è piaciuta la verticalità diciamo che Napoli ha il reparto offensivo che è fortissimo Francesco secondo me è il più forte del campionato se riesce a limitare i danni nella misura in cui non fa cazzate là dietro palleggi in difesa e quant'altro se il centrocampo riesce in qualche modo a proteggere la difesa e quindi ad evitare di prendere troppi rischi prima o poi comunque Napoli la palla dentro tu dici il gol lo fa sì assolutamente c'è i giocatori che fa se non è Petagna se non è Politano è Lozano se non è Lozano è Insigne se non è Insigne è Elmas se altrimenti è Fabiana Truiz comunque ce l'ha i cecchini diciamo che buttano la palla dentro quindi speriamo diciamo è un buon viatico per l'obiettivo che Napoli si è prefissato che è quello comunque di arrivare tra i primi quattro sperando che qualcuno poi più là venga meno qualcuno sbagli dici tu qualcuno sbagli ma perché se non sbagli ovviamente tu devi giochi con due o tre squadre quindi tu devi essere perfetto non devi sbagliare non devi sbagliare mai niente vero vero assolutamente grazie 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 Umbertone grazie allora grazie Giuseppe De Tommaso scrive si stava sudando con una squadra di serie B però ragazzi queste sono squadre che stanno là per dare fastidio oggi non abbiamo visto la partita però l'Udinese che non è una squadra di serie B però ha pareggiato con la Juve e poi altre casomela la serenità nel Bologna se ne sono date di santa ragione l'Atalanta ha vinto ieri col Corino all'ultimo secondo quindi c'è vediamo le prime partite sono sempre tutte un po' così si stava sudando Francesco per le maglie sintetiche anche bravo per le maglie in plastica Mario Tucci attenzione che c'è c'è anche su questo nella top 5 dopo la sentiamo allora Lobotka timido nel primo tempo ma ci ha fatto vedere degli strappi a centrocampista nel secondo tempo che l'anno scorso non aveva forza Lobotka puoi migliorare poi ancora Antonio Gavisseli dice Venezia ridicolo poi forza Napoli da Genova abbiamo giocato contro nessuno vabbè ragazzi però veramente vi state come dire vi state fossilizzando il Venezia sicuramente non era la migliore squadra che potevamo affrontare Giancarlo Isola difende invece il Venezia dice la squadra è molto organizzata guidata da un allenatore molto promettente lo paragono allo spezia dello scorso anno però io non ho visto chi segna in questa squadra insomma che chi è l'attaccante forte lì forte si chiama forte non è che è forte paragonare lo spezia di italiano eh no con il Venezia di Paolo Zanetti mi sembra però devo dire la verità che questa squadra per il campionato che dovrà fare cioè salvarsi ci può stare ci può stare perché poi le linee guida i punti cardine di una squadra del genere ce li ha ce li hanno ben chiari in mente cioè quando vanno fuori cercare il contropiede e cercare di spezzettare il gioco quanto più è possibile e quando giocano in casa cercare di fare quanti punti è possibile con le loro dirette concorrenti questo secondo me è il ragionamento che poi io ripeto non trovo tanto scandaloso che il Venezia sia venuto qua il Venezia è venuto a fare la sua partita cioè quello doveva fare che poi non abbia nomi di rilievo che poi non abbia questi talenti che poi come giustamente dici tu non abbia un centravanti all'anzolà come ce l'aveva l'anno scorso lo spezia anche se l'allenatore dice che gli mancano otto giocatori io poi non ripeto la rosa del Venezia perdonatemi ma ancora non la conosciamo a memoria proprio Zanetti dice sono vent'anni che non siamo in Serie A vuol dire che dobbiamo lavorare tanto dall'altra parte è un motivo di grande orgoglio per noi è stato un battesimo del fuoco iniziando fuori casa contro una squadra che per me compete per lo scudetto non era facile mi mancavano anche otto giocatori ma non deve essere un alibi chi è andato in campo ha dato tutto ma potevamo fare meglio quindi queste le parole di Zanetti questa però potrebbe essere una dichiarazione tipo i 16 giocatori che mancavano alla Zedalcamar che poi erano 16 primavera che poi vennerà a vincere è ragione bravo bisogna stare sempre molto attenti ma comunque io l'avrei sostituito non cresce mai questo ragazzo non è Cesare ma è Lorenzo Verde che scrive questo messaggio il mister che inserisce Gaetano alla prima di campionato in 10 contro 11 e con il risultato in bilico dimostra fiducia nella rosa ma soprattutto carattere scrive Totò Di Perna bravo mi piace questa tua dichiarazione Adriano Castello invece dice comunque centrocampo da rifare perché per lui Ruiz e Lobotka non sono compatibili non sono titolari secondo lui alla faccia di tutti quei finti tifosi che stanno sparlando del Napoli da due mesi forza Napoli sempre buona serata a tutti voi da Vincenzo Forte allora Venezia Scandaloso comunque non era facile arbitre riuscito nel metà dell'intento non cominciamo con i soliti confronti con il passato scrive Gio Delcore con Benitez Sarri con Angelotti adesso Spalletti con Gattuso che poi alla fine ci dobbiamo rimangiare tutto no no capito Gio però guarda che tutti mi stanno dicendo questa cosa cioè hanno visto uno Spalletti diverso non urlatore perché lui non lo è lo sappiamo ma uno che ha dato dei dettami e che forse l'allenatore quello deve dare no Max? ma sicuramente Francesco qua nessuno sta facendo paragoni perché non è possibile paragonare le mele con le pere non è possibile paragonare determinati allenatori ad altri perché già il sistema di gioco già l'impostazione nello spogliatoio già il modo di comunicare con la squadra è diverso qua stiamo parlando di un allenatore di esperienza di un allenatore di carisma di un allenatore che ovunque è andato ha fatto sempre bene e soprattutto di un allenatore che si è accettato questa piazza sicuramente non è per avere un trampolino di lancio ma è per comunque cercare di dare un contributo sostanziale magari a questa squadra e a questa società per crescere cosa che molto probabilmente è mancata per tempo per volontà per tante situazioni prima Benitez e poi ad Ancelotti e poi a Sarri Gattuso io francamente non mi sento di metterlo in questa orbita di allenatori perché Gattuso non è ancora un allenatore di quello spessore poi chiedere scusa non chiedere scusa ragazzi se noi questa mentalità non la cambiamo e ci giriamo sempre dietro a guardare quello che è stato noi un passo in avanti non lo faremo mai Gattuso ha fatto bene ha vinto una Coppa Italia a Napoli l'anno scorso è andata come è andata ma Gattuso è un capitolo chiuso come era un capitolo chiuso Ancelotti come era un capitolo chiuso Sarri e così via ti fermo un attimo allora non so se c'è una telefonata chiedo perdono se c'è allora chiamateci 5067764 però leggo prima Spalletti poi andiamo ancora a leggere i tantissimi amici che stanno anche dibattendo sulla nostra diretta Facebook abbiamo numeri molto alti e ci fa molto piacere lo sapete è fondamentale voi come dico sempre io spammate spammate Club Napoli Tele Club Italia la nostra pagina spammate la diretta per creare una vera community allora Spalletti senti che dice e grazie a questi episodi che si possono spiegare le parole solo dai comportamenti in campo si possono dare esempi forti che i calciatori possono poi riprodurre sembra un po' filosofo nel primo tempo siamo partiti lentamente il Venezia è stato bravo con Zanetti che aveva impostato bene la partita tenendo tutti questi uomini in campo costringendoci ad allargare il gioco e loro ripartivano dritto per dritto nel secondo tempo siamo stati più efficaci e poi il capitano con il secondo rigore ha dimostrato cosa vuol dire portare la fascia di una squadra così importante nei momenti difficili il capitano esce fuori e ti faccio vedere come si fa nella ripresa con Manolas e Coulibaly abbiamo stanato i centrocampisti nel primo tempo dovevamo puntarli di più la partita è un contenitore che va riempito di cose nei 90 minuti non basta mettere la qualità devi mettere anche altro serve che tutti abbiano lo stesso atteggiamento in signa i calciatori così fanno crescere quelli che gli stanno vicino con atteggiamenti così importanti vengono presi come esempio lui se l'è guadagnata sulla pelle la fascia di una squadra con il Napoli gli si fanno i complimenti perché dice sempre gli si fanno i complimenti perché è eletto scano è eletto scano ma non avevo dubbi perché nella sua carriera ha sempre fatto vedere il suo marchio ha fatto bene a richiamare il pubblico perché per noi è qualcosa che può darci una mano in certi momenti hanno iniziato a giocare anche loro nelle difficoltà dell'inferiorità numerica per noi lì è stato più facile è bellissimo essere noi e proprio così vabbè non ci manca niente non possiamo lamentarci di nulla se ti lamenti di qualcosa vuol dire che devi entrare nella programmazione degli altri sei destinato a fare il portaborso e noi non vogliamo farlo ogni tanto si mi scivola diventa sceta diventa matto una volta mi batte con l'argomento a piacere esatto però allora vogliamo avere una nostra identità e la nostra forza un po' di cazzimma la matene dice che ha detto proprio così in Napoletano mi sembra un po' Benitez nella comunicazione cioè vedi usa il napoletano al nostro Adriano ha risposto il fatto di Pino Daniele la città i miracoli San Gennaro Spalletti è uno che sa il fatto suo è il fatto suo è il fatto suo bravo ha detto la parola di lui Spalletti viene da due piazze che sono veramente importanti ma da un punto di vista proprio mediatico e da un punto di vista dei tifosi Roma sponda giallorossa Milano sponda nera azzurra quindi lui sa come trattare sa come prendere Benitez era di un'altra categoria di comunicazione Benitez è colui che ha inventato un certo tipo di comunicazione e un certo tipo di rapporto con i giornalisti con gli opinionisti quindi bisogna bisogna stare un attimo attenti Spalletti è molto molto bravo è molto molto preparato a capire e a riuscire a cogliere quello che la gente vuol sentirsi in quel momento è quello io in questo caso è proprio così allora andiamo al telefono poi andiamo ai messaggi ancora caduta pronto? pronto? sento qualcuno vabbè proviamo a recuperarla allora Fabio Martone rispondendo a un amico che diceva che Osimena assomiglia un po' a Balotelli per alcune cose dice ma non può fare così doveva stare calmo e molto nervoso Giuseppe Pignetti Elmas il migliore Massimo Simeone ho grande fiducia in questo allenatore ne riparleremo Pasquale ancora per me Spalletti ha dato anche tranquillità alla squadra io credo che ci divertiremo ho fiducia nel mister Massimo ancora dice Osimena ha grossi problemi caratteriali Agostino Di Santo per il momento va bene così vincere poi ci saluta Ciro e anche quest'anno Napoli Juve senza Osimena 10 lode al campione 2 turni non glieli toglie nessuno purtroppo vediamo però vediamo Osimena ha esagerato ma il calciatore in Venezia ha stretto con la mano sul collo e lui si gira stizzito sbagliando forza Napoli sempre allora poi ancora Rodolfo buonasera bene che abbiamo vinto ma non sembra un'esagerazione che da 4 anni aspettiamo un esterno sinistro Rodolfo ne parliamo in questi prossimi giorni mercoledì e venerdì facciamo puntata mercato ve lo prometto domani abbiamo il mister con mister Pasquale Daniello qui studio da noi e sono felicissimo addirittura eh sì mercoledì e venerdì invece puntata legata al mercato e a quello che serve a questo Napoli ve lo prometto magari domani la guardo la puntata bravo domani guardala allora Mauro Volpe Fabio Martone non mi sembra che l'anno scorso ha fatto di salso nel senso del carattere lo state già mettendo in cruce ad Osimene però Osimene su questo questo movimento delle mani come hai detto tu non è nella Ligan no non può pensare di essere nella Ligan sei d'accordo? sono perfettamente d'accordo Francesco c'è qualcosa che non va ripeto io nel pre partita ho detto proprio questo mi sono augurato che eh Osimene quest'anno potesse essere il punto di riferimento di questo Napoli perché pensavo che fosse cresciuto pensavo che caratterialmente non dico era migliorato ma quantomeno era riuscito a limare quegli aspetti spigolosi del suo carattere e invece no invece no l'ho rivisto uguale identico all'anno scorso elettrico perennemente perennemente però l'elettricità non è mai positiva è un'elettricità negativa eh quello è il problema quella è un'elettricità negativa non è positiva questa elettricità di farsi male nei primi decenni bravo bravissimo da solo da solo da solo allora anche questo aspetto il fatto che comunque in continuazione va a terra il fatto che ogni volta che viene toccato come se gli avesse perde di credibilità anche agli occhi dell'arbitro allora nell'attimo in cui non facciamo come in Zaki te lo ricordi Pippo? Pippo però gli era concesso faceva 35 gol all'anno quindi voglio dire gli si concedevano determinate sceneggiate ma lui no Osimène purtroppo va detto si è presentato male a questo campionato italiano molto ma molto male ora ha un lavoro enorme ti fermo un attimo perché abbiamo delle notizie su Zelischi allora i nostri telespettatori volevano notizie su Zelischi arriva il bollettino sulle condizioni del polacco dal Napoli proprio tre righi trauma contusivo alla coscia destra la classica vecchia ha preso una ginocchiata sul quadricipide che fa tanto male che non riesci poi a recuperare però io avevo avuto paura del ginocchio perché hai visto gli hanno fatto il movimento del cassetto e io là ho detto porca miseria allora problema muscolare quindi problema muscolare trauma contusivo alla coscia destra questa è una buona notizia potrebbe non giocare col Genova ma con la con la Juve lo recuperiamo con un trattamento adeguato lo recuperiamo anche perché c'è la sosta c'è la sosta no ma con un trattamento adeguato forse lo recuperiamo anche col Genova hai ragione sono d'accordo ti ho interrotto poi andiamo al telefono dai quindi niente dicevo secondo me il lavoro più grande che Osimane deve fare è perché la strada per lui ora è tutta in salita i gol che ha segnato l'anno scorso a fine campionato fanno curriculum fanno bagaglio ma alla fine della fira non sono serviti a nulla quei gol quindi ora lui deve limare aspetti caratteriali e deve cercare di riacquisire credibilità prima di tutto agli occhi dei tifosi agli occhi della società ma soprattutto agli occhi degli arbitri perché gli arbitri una volta che hanno messo un giocatore nel mirino bravo sono d'accordo è finita non c'è niente vi ricordate Lavezzi eh come no Lavezzi purtroppo all'inizio ebbe quelle 5-6 giornate in cui faceva Capriole contro Capriole non gli fischiavano mai nulla quando Lavezzi è diventato giocatore di pallone che ha iniziato a fare i 10-11-12 gol all'anno i 15-16 assist all'anno allora là si è guadagnato anche rispetto degli arbitri che non era un giocatore che non era un cascatore ma era un giocatore e anche gli veniva fischiato qualche volta qualcosa che non gli spettava Osimena ha questo lavoro da fare allora se c'è una telefonata la facciamo se no leggo ancora Spalletti pronto non c'è allora però chiamate c'è 506-7764 vi aspetto con le telefonate tanti messaggi dopo li andiamo a a leggere allora soddisfatto di questa prima partita gli chiedono è chiaro che l'emozione c'è sempre se poi questo lavoro lo fai essendo allenatore del Napoli ancora di più ci sono 40 milioni di tifosi del Napoli in giro per il mondo abbiamo gli occhi addosso di tutti questa gara vale più di una sola gara perché ci sono state delle sostituzioni che in condizioni normali ci volevano più gare per andarle ad analizzare questa gara ha avuto tante notizie da inculcare alla squadra e poi questo sarà lui a dirle in signe resterà posso aggiungere quello che lui ha evidenzato in questa gara di essere un leader vero che esce nel momento di difficoltà dopo la sfortuna di sbagliare un rigore si propone di iterare il secondo e dà una spinta importante alla vittoria mettendo la partita in partita anche il pubblico c'è da dire che nel secondo tempo nonostante l'infiorità numerica abbiamo capito quali erano i momenti determinanti della gara la squadra mi è piaciuta molto nel secondo tempo come valuta l'espulsione di Osimèn l'arbitro aureliano è stato molto corretto quando me l'ha spiegata Osimèn deve stare attento alle sue reazioni emotive è un attaccante forte tutti i difensori cercheranno di aiutarsi limitandone l'esuberanza fisica le mani addosso degli avversari le avrà sempre ma questo lo deve capire quello che abbiamo detto noi quello che abbiamo detto noi adesso Francesco nell'attimo in cui io so che tu sei un tipo nervoso ti rompo le scatole è normale che ti provoco perché prima o poi tu ci caschi è questo che lui deve evitare è proprio il cadere nel trappolone dell'avversario nel trappolone dell'avversario bravissimo allora il pubblico sarà emozionato anche quest'ultima di campionato mi rimane facile emozionarmi è una vita che gonfio palloni sul campo e io li inseguo il calcio è qualcosa che accomuna il mondo vabbè qua è molto filosofico è ritornato chi è questo possiamo dire Kant sì forse Kant è chiaro che è l'unico l'unico filosofo che si ricordava Molaro è il primo che è il primo che è passato per me lui aveva Schopenhauer in mente però Schopenhauer è più è pessimista è più però dipende perché lui attraversa anche poi quella fase pessimista si è visto chiaramente che nessuno dei due sa di che cosa sta parlando potete andare avanti grazie vabbè allora sulla prova dei suoi penso che abbiamo fatto molte cose buone nel secondo tempo nel momento di massima difficoltà dobbiamo partire da quei momenti cosa la sorpresa in positivo gli chiedono la maturità della squadra nella ripresa abbiamo avuto quella maturità dentro quella reazione che mi ha fatto enorme piacere da lì possiamo andare a prendere molte cose da prendere come esempio e questo insomma era la conferenza di Luciano Spalletti allora Molli ma hai letto quello che ha scritto hai letto la segnalazione dell'ottimo Pasquale Rosiello che ci ha fatto sapere e io ho verificato con i minutaggi sì che c'è stato che in contemporanea alla cioè proprio oggi Roberto Insigne sì che al Benevento al ventunesimo ha tirato un calcio di rigore sbagliandolo vero due minuti dopo l'arbitro lo ha fatto ripetere perché il VAR ha trovato un'irregolarità e ha segnato il secondo rigore al ventitresimo fantastico vedi com'è entrambi i fratelli stesso gioco stesso destino stesso destino bravo intanto lo diciamo per onor di cronaca sta succedendo di tutto è successo di tutto in Nizza Marsiglia perché Pagliere pare che abbia buttato una bottiglietta nei tifosi ha ricevuto una bottiglietta e gliel'ha rilanciata gliel'ha rilanciata i tifosi sono scesi in campo addirittura fermando il gioco è pazzesco Nizza Marsiglia è bella bella tosta diciamo bella tosta allora 5067764 Marco dammi l'ok se arrivano telefonate saluto Gianni Reina Marco Sferratore espulsione inesistente non datelo subito addosso saluto anche Lello Martino però ragazzi Marco io ti ho detto subito non so se hai visto la puntata dall'inizio io ho detto molto 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 generosa in senso però negativo nel senso che per me è un'espulsione forte cioè era un'arancione se vogliamo essere cattivi ma per me non c'è più del giallo però purtroppo si è capito che gli arbitri sono molto attenti in questo inizio pare che ci sono state diverse espulsioni quindi attenzione qua gli arbitri saranno molto più fiscali su alcune cose vi dico la verità io guardavo i due calci di rigore e l'ho detto all'amico Max mentre eravamo a vedere la gara io ho detto ragazzi però così non è più calcio due calci di rigore per i Napoli me li prendo e non li mollo mai attenzione però quello è tira bersaglio soprattutto cioè il secondo di Lorenzo fa una cosa strepitosa fa una giocata importantissima poi non so però quella palla dove va però e là il cacciatore lì che fa il cacciatore pare che era cioè è a un metro e mezzo e si è scordinato c'ha la mano c'è Carone c'è Carone c'ha la mano larga però ragazzi c'è ogni tiro pure Mario Rui quasi lo punta a Caldara Caldara sbaglia perché bisogna difendere con le mani dietro e siamo d'accordo come fa molto bene il nostro Giovanni di Lorenzo però ragazzi c'è può capitare che nella corsa tu metti un braccio così e ti arriva un pallone sopra ma perché poi i giocatori come scusa ti do la parola giocatori come Di Bala giocatori anche come Insigne te la mettono sulla mano poi la palla è o no e questo è il punto Francesco perché bisogna capire poi questo questo rigore questa rigidità nell'arbitraggio e nell'applicare il regolamento se sarà portata avanti per tutto l'anno se farà per tutte le parti perché io poi non vorrei che arrivato a un certo punto si cambiano le regole in corso allora non vale più bisogna verificare la distanza perché effettivamente il secondo rigore del Napoli la distanza ragazzi stiamo parlando di 30 centimetri 20 centimetri non lo so quanti sono precisi ma sicuramente non tantissime non è tantissima però voglio dire allora a me sta bene ma deve essere però uniforme cioè ci deve essere sempre il giudizio è la stessa cosa vale per le espulsioni allora a questo punto le espulsioni come sentivi anche tu che ci sono state molte espulsioni in questa giornata allora questo atteggiamento manteniamolo però per tutto il campionato e per tutte le squadre bravissimo bravissimo poi che da coscienza da amanti del Napoli da tifosi del Napoli noi diciamo è un giallo scuro e un arancione ragazzi da regolamento è rosso possiamo parlare da qua fino al treno no ma infatti pure a Marco hai mai visto un'espulsione su una sbracciata no però qua Osimene risponde con la mano così e gliela mette un po' al collo poi è chiaro che il giocatore del Venezia crolla e Osimene è stizzito pare da una trattenuta da qualcosa però lì ragazzi non vi dimenticate Chiellini Cavani cioè non è che Cavani gli ha dato un cazzottone poi a cosa a a Chiellini cioè quello è allora tu sei lo sai l'ha detto anche Spalletti ti toccheranno in tutti i modi caso ma ti toccano anche nelle parti basse no ti ricordi quel giocatore che lo faceva proprio per per dare fastidio ragazzi è così poi è chiaro ripeto che questa espulsione è rossa è forte ed è un rosso diretto che mi preoccupa per la partita con la Juve a questo punto se dovessero arrivare due giornate il Napoli deve fare ricorso deve fare assolutamente ricorso ma anche perché poi corri il rischio di giocare sia l'andata che il ritorno contro la Juve senza si vende incredibile guarda che c'è storia anche perché quest'altra magia di cambiare il calendario di fare l'andata questa veramente è una cosa che ti giuro io vorrei veramente sedermi con qualcuno e capire e capire perché no ma loro hanno voluto fare questo fatto del calendario asimmetrico per dare un po' di vivacità allora mi sta bene sai in che caso se questo è prodromico dei playoff bravo allora se tu mi stai abituando hai visto come ha usato prodromico prodromico non l'hai neanche ripetuto bene bravone prodromico 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 pro mi sta bene se tu mi porti per mano ai playoff fra due anni mi sta bene però così random non lo capisco allora Luigi Castiglia dice condivido sempre quello che dice Max ma Suomen questa volta non sono d'accordo però su che cosa spiegaci spiegaci allora meno male per Zelischi dice Giuseppe Osimene calcisticamente è molto forte ma deve darsi una calmata poi 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 vado a releggere ancora forza Napoli grande colibbalissima tutto sommato giocato per tutto il rispetto adesso bisogna stare attenti al Verona al Verona che non ho dimenticato ah torniamo no ragazzi però ormai abbiamo iniziato Napoli-Verona è così allora 5067764 chiamateci diteci la vostra in questo finale di puntata siete tantissimi linee libere come direbbe qualcuno allora vi ricordate il dito esatto di Necruz del Bari a Pippo Inzaghi te lo ricordi no ma ce ne sono stati altri adesso non me lo ricordo c'era un altro che toccava le parti basse ma chiunque che gesto elegante eh no no me lo ricordo non me lo ricordo forse non in Italia forse in Spagna il gesto che hai fatto tu è stato molto elegante Francesco ma chiunque abbia calcato un campo di calcio dalle serie più basse alle serie è così si cerca sempre di provocare l'attaccante o per meglio dire il giocatore che si ritiene più pericoloso più forte io mi ricordo negli anni 80 negli anni 90 in area con i calci piazzati ti venivano a pestare i piedi bra i tacchetti che all'epoca erano di ferro e ti facevi malissimo ti facevi malissimo e ti pestavano i piedi gente che ti toccava le parti basse ma nella migliore delle ipotesi Francesco io mi ricordo che siamo andati a fare una partita dove il campo era tipo a un metro e mezzo bra dalla bandierina c'era il nostro attaccante che batteva i calci tango che quando è finita la partita non aveva bisogno di farsi lo shampoo per tutto quello che aveva ricevuto di liquido non proprio diciamo esatto addosso è sempre stato e lo sarà sempre allora Osimène deve fare questo questo salto di qualità esatto deve fare questo questo passaggio proprio da grande giocatore deve dimostrare con i fatti quello che è va bene va bene allora pronto caduta ragazzi che succede chiamateci potete interloquire con noi 5067764 potete avere la possibilità dite sempre che non trovate le linee occupate adesso che sono libere non ci chiamate allora vado a recuperare però ancora tantissimi messaggi tantissime persone collegate con noi non ci esaltiamo stavamo giocando con una squadra dei playoff di B rimasta tale avrei segnato anche io dice Daniele Rodolfo Osimena esagerato ma il calciatore del Venezia ha stretto con la mano sul collo e lui si gira stizzito ecco quello che dicevo prima però perdonami io non riesco veramente a capire allora qua nessuno si sta esaltando nessuno ma infatti non ci stiamo esaltando noi stiamo prendendo atto di quello che abbiamo visto e stiamo dicendo quello che abbiamo visto non abbiamo visto una partita stellare non abbiamo visto la più bella partita degli ultimi vent'anni abbiamo visto una partita dove Napoli ha saputo soffrire e si è portato a casa i tre punti che per essere la prima giornata di campionato ripeto in dieci uomini e con 30 gradi era quello che andava fatto punto ci saranno tante partite per esaltarsi e tante partite per deprimersi in questo momento ci prendiamo il buono di questa motivazione ma l'ho detto io l'ho detto vedi l'importante era vincere e andiamo avanti le frasi fatte che abbiamo detto si è come non esistono più le mezze stagioni bisognava vincere buona la prima e si stava meglio quando si stava peggio queste sono le situazioni e le frasi fatte ripeto io trovo che stasera il Napoli abbia dato un segnale estremamente forte a questo campionato immaginiamo se stasera il Napoli avesse pareggiato o addirittura avesse perso allora il Napoli stasera ha fatto il suo non strafacendo non rubando l'occhio però ha vinto ti prendi tre punti e te ne vai a casa bravi sono d'accordo con te allora salutiamo anche il nostro Alberto Caccia che ci vede ti vogliamo carico ti vogliamo carico per questa stagione carichissimo carico e presente vai va bene allora vediamo c'è una telefonata? no e allora vado avanti con i messaggi non ti preoccupare e ragazzi oggi vi siete vi siete come dire preoccupati Rosario ci chiede chi giocherà a Genova come punta? eh eh bella domanda Petagna? Petagna cioè oggi è entrato perché sta bene può giocare no? giocherà a Petagna eh per questo dico giocherà a Petagna Giuseppe dice il Napoli con un terzino a sinistra è un centrocampista e dà scudetto piano calma 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 andiamoci piano siamo solo alla prima Marco pure risponde Petagna o Lozano però vabbè Lozano mi ha fatto piacere che sia entrato aveva un occhio bello unfio ancora come si suol dire dalle nostre parti una bella mulignana l'occhio ammarrato però io non credo che l'esperimento Lozano possa andare avanti perché l'esperimento Lozano che è un giocatore che è un giocatore che l'ha fatto al momento è Petagna quindi credo che per logica mancando il centravanti titolare e avendo tu la riserva e potendo rischierare undici giocatori e non dieci come centravanti il Napoli col Gemma metterà Petagna ma me lo auguro anche io allora leggiamo ancora qualche messaggino dai nostri amici che ci stanno seguendo in streaming allora chiedo a Marco di risalutare tutti i nostri sponsor con le L con le nostre mitiche L ricordo e ringrazio i nostri sponsor che sono stati vicini nei due ritiri quello di Castelvisangro e quello di Di Maro regaleremo queste prossime puntate ripeto noi saremo in onda lunedì mercoledì e venerdì con le dirette rivedete la puntata di lunedì anche martedì e quella di mercoledì la rivedrete giovedì nelle repliche poi dalla settimana prossima domenica puntata prepartita con il Genoa e poi tutti i giorni sempre fino veramente fino a Natale penso che non ci fermeremo mai finché morte non ci separi e per morte intendo la tua te tieni va bene allora buonasera il telefono chi è? pronto? no è caduta che è? ragazzi fate gli scherzetti ci fate vabbè allora Petagna sta ancora imballato e vabbè ma ragazzi no guarda che viene da un infortunio Petagna ha fatto pochissima preparazione soprattutto a Castel di Sangro abbiamo visto un Petagna che ha dovuto quasi cioè le ultime cose buone le aveva fatte a Di Maro poi sparito purtroppo diciamo per un per un un problema muscolare anche per lui insomma questo è il problema allora stavo leggendo prima il nostro amico Stefano che dice anche il Venezia non è il Real Madrid unica cosa che non mi è piaciuta anche però dice è vero avevano quattro infortunati più quattro squalificati dello scorso anno va bene pronto ciao Francesco sono Giuseppe ciao Giuseppe ciao Giuseppe ciao Peppe ciao Peppe beh hai visto oggi c'è la linea come sempre volevo semplicemente dire che io sono contento di questa partita di stasera come ho già scritto nei commenti su Facebook un parere molto postivo su Osman volevo dire così alla mi sfugge il nome del tuo collega Massimiliano Massimiliano forse è un po' troppo severo la sua la sua disamina esatto la sua analisi però comunque nel complesso concordo perché effettivamente Osman deve darsi una calmata a livello insomma caratteriale anche se tecnicamente insomma ho visto che rispetto all'anno scorso ci sono comunque delle migliorie comunque del cioè tecnicamente un calciatore comunque che può dire la sua in questo campionato a maggior ragione è importante insomma non rischiare di perderlo ecco no assolutamente chi è stato il tuo io ho una domanda che volevo fare a voi ma si sa qualcosa sulle giornate di squalifica che potete prendere in questo caso guarda per ora è impossibile dirlo diciamo da regolamento su due giornate allora se fosse stato il capitano sicuramente erano due giornate adesso dobbiamo capire se l'arbitro come interpreta è quello che scrive nel referto l'arbitro io dico che se il Napoli se arrivano due giornate il Napoli deve fare i corso anche perché c'è la Juve però sarebbe assurdo veramente quella è la mia preoccupazione se lo vede come reazione o come azione di gioco chi è stato il migliore in campo Giuseppe? senti il migliore in campo allora io direi insigne per un semplice motivo perché nonostante le dole del vigore è stato freddo a fine del secondo rigore e credo che non sarebbe stato facile quindi aveva una responsabilità molto grande e quindi mi viene da dire Lorenzo bene ed è come ho anche scritto ad altri telespettatori secondo me in Napoli non può fare a meno del capitano no no ma infatti ragazzi poi questo ne parleremo nei prossimi giorni ne parliamo e poi i miei complimenti a Gietano vero è vero siamo contenti sto ragazzo sì sì siamo molto contenti gli abbia dato fiducia è una cosa molto importante per me sono d'accordo con te bravo hai sottolineato una cosa interessante bravo a me abbiamo per la prima volta dopo tanti anni vedo un un giovane napoletano bravo napoletano che gli viene data fiducia insomma gli viene valorizzato è una cosa insomma che non si vedeva da parecchio ecco devo dire la verità sono d'accordo con te allora grazie grazie per la tua telefonata ci vediamo domani ci vediamo domani domani alle 15 e 30 ragazzi sempre live in diretta sul canale 98 sulla nostra pagina club Napoli teleclub Italia sempre live allora ha parlato a Elmash dopo una partita così giocata in 10 è stato difficile ma la gente è stata incredibile siamo felici speriamo di giocare sempre con tanto pubblico allo stadio poi com'è giocare con Insigne e gli altri big loro sono da tanti anni qui sono giocatori importanti hanno vinto anche l'europeo sono molto felice di stare qui con loro sullazione del gol non ho pensato quando è arrivata la palla ho cercato di fare gol sono molto contento di aver preso i tre punti perché erano difficili Spalletti ti ha elogiato gli dicono il mister ha sempre parlato bene di me sono molto felice ma devo dimostrare sul campo mi ha dato un po' di fiducia spero di far bene anche nelle prossime partite questo è il mio terzo anno a Napoli ma posso fare di più Insigne tutti lo conoscete è un campione vero anche fuori dal campo è il numero uno ed è un vero capitano e leader allora sentimi bene tu mi hai detto una cosa interessante mentre guardavamo la partita Elmas ha fatto un bel gol soprattutto lo stop e la girata veloce però tu mi hai detto una cosa questo giocatore non ho ancora capito se non la posizione che tutti ci domandiamo anche di Elmas ma se è forte o no sono tre anni sono tre anni Francesco che io mi faccio questa domanda con questo ragazzo se tu lo vedi ad esempio cinque minuti prima che segnasse aveva il campo davanti non aveva avversari davanti ha fatto un errore gravissimo doveva fare un'apertura di esterno dritta per dritta facilissima per un giocatore a certi livelli l'ha mandata direttamente in fallo laterale dopo cinque minuti ti fa un controllo orientato quindi con dribbling e un tiro di destro sul primo palo dritto per dritta bellissimo allora questo è l'esempio secondo me di quello che questo giocatore sta dando al Napoli in questi tre anni io non l'ho ancora capito se è un gran perché poi lo vedo giocare anche in nazionale sì sì lui con Pandev con Pandev lui gioca dietro Pandev ed è incredibile ha dei colpi incredibili a Napoli sono tre anni che mi sto domandando ma è forte o no della posizione non mi interessa perché della posizione oramai abbiamo capito che lui è un un tutto campista però voglio capire tecnicamente voglio capire questo giocatore se è forte o se è scarso questo voglio capire e secondo me quest'anno lo spalletti lo capiremo lo capiremo allora se c'è un'ultima telefonata la facciamo pronto? pronto oh Bobone Bobo ciao ciao Francesco ciao Max ciao Bobo ciao a tutta il club Napoli ciao 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 Bobo grazie bravo niente Francesco Max è un Napoli che ha giocato sotto tono però avendo sempre il pallino del gioco in mano perché con questa temperatura si è giocato sotto l'ombrellone praticamente quindi ogni tanto i giocatori si andavano a tuffare in acqua e quindi l'esultanza questa è presa da una tv però la facciamo vedere scusami Bobo guardate l'esultanza di De Laurentiis al secondo gol di Elmas tanto da aver detto anche una una parolaccia poi si è liberato soprattutto per per il vantaggio perché insomma era una partita strana l'espulsione il rigore sbagliato quindi era pericolosa diciamo ma niente di che senza preoccupazione perché poi il pallino in mano ce l'ha avuto sempre in Napoli anche stando un uomo in meno perché poi quando riguarda l'espulsione di Osimene è stata una giovanottata è bello una giovanottata mi piace sì perché poi il ragazzotto è ancora giovane ancora acerbo cioè deve ancora maturare praticamente e quindi noi dobbiamo solo aspettarlo questo ragazzotto aspettiamolo sì chi è stato il migliore lo so tu prima hai dato delle analisi l'hai un poco bacchettato io sono veramente d'accordo per quello che hai detto tu però i ragazzi bisogna accarezzarli bisogna insegnarli bisogna dargli la vita metta via come dicevamo il grande Dante però però Bobo sai qual è il discorso io sono d'accordo con te che vanno accarezzati vanno coccolati vanno consigliati però dall'altro lato ci deve essere la voglia di seguirti perché se non c'è la voglia di seguirti e se tu pensi sempre con la tua testa e ragioni sempre con la tua testa e non impari mai poi ragazzi allora io non è che poi sembra sempre che sono io a fare la magia del cattivo contro Simen però anche questa storia Osimene è un 99 va per i 23 23 non è più un bambino ecco non è il ragazzino di 17 18 anni allora qua ragazzi la differenza non è il Nizza o il Lille questo è il Napoli questo è il campionato italiano che sta perdendo tanti giocatori ma rimane un campionato tosto esatto il ragazzotto il Ligan sicuramente come dici tu Bobo sicuramente non ho dubbi che può fare la differenza e ha fatto la differenza però i fatti parlano a suo sfavore purtroppo la sua squadra ha vinto il titolo quando lo ha venduto questo ragazzo è da un anno e mezzo era mai a Napoli non ha mai modificato un upgrade del suo carattere non l'ha fatta non riesce ad occidentalizzarsi nel senso buono del termine non riesce a capire io sono pienamente d'accordo Max ma aspettiamo ancora con il ciò serio quello lo dobbiamo aspettare no ma noi abbiamo questo ragazzo in squadra Gaetano ma Gaetano non è un centravanti Bobo è il nostro pupillo Gaetano che dirà anche di lui la sua ma sicuramente ma sicuramente ragazzi il punto sapete qual è che qua si sta scherzando oramai purtroppo a me dispiace sono cinque anni che il Napoli sta scherzando con il ruolo più delicato della squadra che è il centravanti bravis allora in un sistema di gioco che prevede il terminale offensivo forte determinante un regista d'attacco è impensabile che sono cinque anni che il Napoli giochi senza centravanti bene ragazzi vi devo fermare grazie Bobo ti voglio bene ciao Bobo grazie ciao ciao Bobo grazie allora ragazzi dobbiamo chiudere però abbiamo la top 5 velocissima del nostro Marco Marco però deve diventare un appuntamento fississimo quando ci sono io molto volentieri va bene nel post vai vai il secondo tempo è andato bene ma il primo infatti durante il primo tempo si è visto ADL prendere il telefono e dire ehi Siri chiama Ringhio così per sicuro alla 5 posizione numero 4 pare che la partnership di ADL con Amazon sia anche in chiave mercato cioè in vista dei prossimi acquisti voleva essere certo di avere i 30 giorni di reso gratuito eh infatti portando i calciatori all'Amazon Locker sa come ce li fa entrare terzo posto i due incredibili gesti atletici del Napoli il primo il capitano che si è arrampicato per abbracciare il Mars al secondo golo perché è alto il doppio e soprattutto l'intera squadra che a fine partita si è ritrovata con delle maglie di plastica del peso di 17 kg cada una secondo posto Meretta a fine partita è andato dai compagni a chiedere dai raga bello lo scherzo quando mi date la maglia vera può essere vera quella maglia di Meretta primo posto le lamentele a Molaro perché a fine a fine post partita ha spoilerato il risultato mentre metà dei telespettatori ancora al primo rigore di insegne grande il nostro Marco Mennillo con la top five di chiusura e allora grazie veramente al nostro Massimiliano fresco sposo un augurio a tua moglie a te per il lieto evento e allora un augurio a tua moglie che ricordiamo si chiama Cesare Rosso dai salutiamo tua moglie imma salutiamola brava insomma ti sopporto mi sopporto no no scherzo brava imma allora di nuovo auguri a te ci rivediamo ci rivediamo nelle puntate o in collegamento qui insomma ci saranno varie situazioni grazie al nostro Marco Mennillo allora appuntamento domani alle 15 e 30 come al solito in live saremo con mister Daniello quindi faremo puntata su Napoli Venezia ma su tutto quello che sta facendo il lavoro anche il mister Spalletti qui a Napoli con il supporto proprio di mister Daniello che ci darà un po' dei dritte su quello che abbiamo visto a Di Maroc a Castel di Sangro e soprattutto quello che vedremo in campo poi saremo in onda mercoledì e venerdì e poi domenica pagina di Club Napoli eccola là Club Napoli Teleclub Italia mettete un bel mi piace ma tipo ma sto studio sta grafica ma come so belli come so belli questo sfondo è bello copiateci ah no no vabbè dai dai sigla rinnovata come dire come si possiamo dire rimasterizzata rinnovata era giusto rinnovata rimvescata rimvescata comunque è prodromica per un cambio dell'anno pronto lascia mi ringraziare te Francesco Marco Regia e tutti i nostri spettatori grazie a voi ci vediamo domani 15.30 forza Napoli e si dorme grazie a tutti grazie a tutti